Recoci in studio, vi dicevo acquisti di Natale. I centri commerciali, esattamente come le strade della città, si affollano per la corsa ai regali. Quest'anno però in tanti a causa di rincari hanno messo in difficoltà le famiglie e spenderanno meno. Secondo Confcommercio ogni sardo farà acquisti per una media di 119 euro a testa al di sotto della media nazionale. Ce ne parla Mauro Lotto da UTG. Natale ormai alle porte e i sardi si trovano a fare i conti con l'aumento dei prezzi causa inflazione. Il budget di spesa per i regali del periodo natalizio è sicuramente maggiore rispetto a un anno fa, ma in molti scelgono di comprare online anziché girare per negozi. Le vacanze di Natale 2022 sono particolarmente sentite dai sardi e anche se l'Italia si rivela tra i paesi più colpiti dall'aumento dei prezzi, le persone, complice anche l'uscita dalla pandemia, chiudono un occhio sulle spese natalizie. Sono i soldi il regalo più desiderato sotto l'albero, anche se per i più piccoli si pensa sempre a qualcosa di speciale. Chi ci sia a crisi non te lo saprei dire, ho fatto acquisti e si, lo puoi vedere? Si Per mia nipotina Quindi se riuscirai a trovare i regali di Natale? Si, perché mi hanno tre giorni e se non le trovo entro in crisi, mi butto in terra e qui da giù E anche tra i negozianti c'è un cauto ottimismo Dai, rispetto allo scorso anno diciamo che siamo più o meno sui stessi livelli Naturalmente le persone non possono, diciamo che non fanno grosse spese Castel Sardo ha diritto all'iniziativa Destination Wedding nei borghi più belli d'Italia Dal 2023 si propone come luogo del cuore per il giorno del fatidico Si, regalando non soltanto agli sposi ma anche ai loro amici e parenti un'esperienza indimenticabile Sentiamo Ci sarà anche Castel Sardo fra le sedi italiane più romantiche e suggestive che accoglieranno gli sposi provenienti da ogni parte del mondo che potranno così coronare il loro sogno d'amore in una location molto particolare ricca di cultura, tradizioni e con un'offerta gastronomica di alto livello L'amministrazione comunale della città di Doria ha infatti aderito all'iniziativa Destination Wedding nei borghi più belli d'Italia con la collaborazione di Italian Event Planners affermata agenzia di organizzazione Eventi per Stranieri e il patrocino dell'associazione Feder Matrimoni Alcuni appuntamenti sono già previsti per il 2023 Castel Sardo come luogo del cuore quindi per il giorno del fatidico Si regalando non solo agli sposi ma anche ai loro amici e parenti un'esperienza indimenticabile L'obiettivo inoltre è quello di promuovere turisticamente il centro marinaro e favorire un ritorno economico per le strutture ricettive, quelle della ristorazione e per tutto l'indotto commerciale In realtà quella della celebrazione di matrimoni di stranieri nel centro non è una novità assoluta poiché Castel Sardo in passato ne ha già ospitato alcuni sia pure cinematografici come quello dello scorso anno fra i protagonisti della serie Netflix 365 giorni girato proprio nella cantedrale di Sant'Antonio Abate Alcuni tra i talenti più noti della musica sarda con Maria Giovanna Cherchi a chiudere la manifestazione è un fine benefico a sigillare l'importanza dell'evento Si è svolto a Olbia Natale in Basilica il concerto che ha saputo unire musica e solidarietà nella bellissima chiesa di San Simplicio Vediamo È stata la Basilica di San Simplicio di Olbia ad accogliere il doppio appuntamento con la musica e la solidarietà per il concerto di Natale organizzato da Rotari di Olbia in collaborazione con gli sponsor che hanno voluto dare un contributo a sostegno dell'associazione Pollicino Onlus di Olbia che dal 2006 porta sorrisi e aiuto nelle corsie degli ospedali che ospitano i più piccoli come la pediatria La manifestazione, svoltasi sotto legida dell'Accademia Bernardo De Muro patrocinata dal Comune di Olbia e dalla Regione Sardegna ha regalato ai presenti una serata all'insegna della nobiltà quella d'animo Con le esibizioni del coro perosi di Olbia e della giovane e talentuosa cantante Nico Ruzzitu si è aperto l'evento al quale ha presenziato il vescovo della diocesi di Tempio Amporias Monsignor Sebastiano Sanguinetti Poi è stato il tenore Giuseppe Serra a far vibrare la Basilica del Santo Patrono della città Infine, la sempre più brava Maria Giovanna Cherchi ha incantato il pubblico presente e ricordato il fine benefico della manifestazione con il ricavato della lotteria ideata dagli organizzatori devoluto all'associazione di volontariato Don Antonio Tamponi, parroco della Basilica ha accettato l'invito ad ospitare la manifestazione nel luogo religioso simbolo della città e ha ricordato quanto e come siano importanti le associazioni che aiutano il prossimo Il concerto si è chiuso con la consegna dei premi e vincitori della lotteria e saluti dei soci del Rotare di Olbia che hanno ideato e voluto l'evento Tg Live termina qui vi invito a seguire le prossime edizioni del nostro telegiornale non prima però di avervi ringraziato per averci scelto Arrivederci Tg Live telegiornale regionale della Sardegna Tg Live Tg Live